Si è conclusa da poche settimane la prima dell'emissione Artemis. Artemis era la gemella di Apollo e quindi già questo vi dovrebbe mettere sulla buona strada. Stiamo tentando di tornare sulla Luna, questa volta addirittura per civilizzare. Stiamo già progettando delle missioni su Marte, anche se le complessità sono ancora molte per riuscire a risolvere questa sfida. Ma per tentare di comprendere perché stiamo tornando nello spazio abbiamo invitato una persona eccezionale che è Maurizio Kelly, astronauta e pilota collaudatore dell'Evo Fighter. Oltre che pilota di aeroplano che è una delle sue grandi passioni. E come vedremo una delle due persone che può dire di essere stata nello spazio e anche sulla cima dell'Everest. Benvenuto Maurizio. Grazie mille Massimo. Allora il nostro obiettivo Maurizio è tentare sempre di comprendere quali sono gli obiettivi dell'ONU, come ci stiamo avvicinando a questi obiettivi dell'ONU. Sappiamo che c'è un'agenda di 17 obiettivi che dovremmo tentare di raggiungere da qui al 2030, ma oggi appunto vogliamo allargare il discorso per comprendere perché andiamo nello spazio, quali potrebbero essere le indicazioni, le lezioni che apprendiamo andando nello spazio in relazione appunto all'agenda delle Nazioni Unite. Allora ci vuoi aiutare a comprendere perché andate nello spazio, possiamo dire, visto che tu ci sei stato. È una domanda molto interessante che implica molteplici risposte. La prima che mi viene in mente, che è molto generale ma è molto importante per noi, è la conoscenza. Noi andiamo nello spazio per capire da dove veniamo, che è qualcosa secondo me di molto importante, che è una domanda fondamentale dell'uomo in generale. E poi soprattutto lo spazio rappresenta un grande laboratorio scientifico naturale che permette di portare a termine delle sperimentazioni che non sono in contrasto con quello che si fa sulla Terra, ma sono assolutamente complementare in tantissimi campi, dalla tecnologia applicata, per esempio scienze dei materiali, ma anche a qualcosa di molto più vicino e che ci tocca, che è la biologia, la farmacologia e soprattutto la cura di malattie che diventano sempre più importanti e interessano sempre più persone sul nostro mondo e sulla nostra Terra. In effetti ci stai dando anche una visione molto completa di quanti esperimenti possiamo fare, quanto la conoscenza e il progresso non solo scientifico possono aumentare grazie a queste missioni, ma alla fine potremmo dire che il minimo comune multiplo è il nostro rapporto con l'ambiente e con la Terra. In effetti si dice che il nostro rapporto con la Terra è cambiato con un'immagine molto famosa del solgere della Terra. In effetti poi gli astronauti come Terra raccontano anche che è stupendo, è meraviglioso poter vedere la Terra, chiaramente da un altro punto di vista, ma in qualche maniera da quel punto di vista emerge forse anche un po' la fragilità della Terra. Noi siamo abituati a vedere la Terra, noi che ci viviamo siamo abituati a vedere, diciamo, il pianeta come qualcosa di molto forte, solido, mentre forse dallo spazio mostra tutta la sua fragilità. È assolutamente vero, c'è quella famosa foto scattata dall'Apollo 8, che è stata la prima missione che ha circunnavigato la Luna e che mostra la Terra che sorge sull'orizzonte. E questo è qualcosa che secondo me ha cambiato molto la prospettiva che noi abbiamo del nostro pianeta, perché la percezione che noi abbiamo delle cose posso assicurare che dipende grandemente dal nostro punto di vista. E quello è stato un punto di vista unico che mi piacerebbe poter sperimentare di persona, perché diciamo che da dopo le missioni lunari l'uomo, quando è andato nello spazio, è stato in quello che si definisce orbita bassa terrestre, quindi tra i 350 e i 400 chilometri di quota. Quella quota a cui viaggia oggi è la Stazione Spaziale Internazionale, e la Luna sta a quasi 400 mila chilometri, quindi qualche ordine di grandezza. Però già da quella distanza non si vede il pianeta come una palla, ma si vede, diciamo, dimensione di continente, si vede molto bene nella curvatura della Terra e si appresta sicuramente la fragilità di questo nostro pianeta, perché la prima cosa che colpisce chiunque abbia la fortuna di volare nello spazio è lo spessore relativo dell'atmosfera, questa piccolissima striscia blu che circonda il nostro pianeta e che mantiene la vita sulla Terra così come noi la conosciamo. E quando la si vede nel background nero dell'universo è qualcosa di veramente impressionante. Anticipiamo, Marte, visto che hai dato dei numeri, si trova a oltre 50 milioni di chilometri, tanto per far comprendere la complessità e la difficoltà di quella ulteriore sfida. Ma tu, se ricordo bene, nello spazio hai visto l'Everest e hai deciso di andarci. Ci vuoi raccontare? Sì, assolutamente. Diciamo, per quanto riguarda Marte, molte volte si danno distanze in chilometri, ma a volte noi abbiamo difficoltà, quando i numeri diventano molto grandi, a relazionarci con essi, 50 milioni, 500 milioni, diventa difficile. A me invece, diciamo, c'è un'unità di misura che secondo me rappresenta ancora di più la distanza, che è il tempo. Se oggi qualcuno sulla Terra potesse parlare per radio, parla per radio con un astronauta che sta in orbita attorno alla Terra, gli chiede come sta, nel giro di qualche frazione di secondo si sente rispondere, sto bene, se questo astronauta fosse sulla Luna ci vuole qualche frazione di secondo in più, ma in un lasso di tempo molto ragionevole si sente dire sto bene, se un astronauta fosse su Marte ci vogliono 20 minuti. E per la nostra società, che è tutta portata, e abbiamo lavorato allo sviluppo della tecnologia per dare il real time, diventa qualcosa di veramente molto complesso, con grandissime implicazioni, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto tecnologico, sia dal punto di vista logistico, ovviamente. Poi ho avuto la fortuna di, quando ho volato attorno allo spazio, attorno alla Terra, nello spazio, tra le tante fotografie che ho scattato, ce n'era una in particolare dell'Everest, che è una montagna incredibile, e anche lì la prospettiva cambia. Quando ho visto questa foto, mi sono detto un po' come una boutade, prima o poi ci salirò, mi ci sono voluti 20 anni per decidermi, ma nel 2018, a maggio, dopo quasi due anni di allenamento, sono riuscito ad arrivare in cima all'Everest, e per me è stato un po' come mettere insieme le due esperienze, perché già dagli 8.848 metri dell'Everest si vede già abbastanza bene la curvatura della Terra, e questo mi ha fatto ricordare ovviamente un'altra curvatura che avevo visto da una distanza un po' più alta, ma che apparteneva alla mia esperienza precedente. Certo, l'esempio dei 20 minuti è incredibile, vuol dire che se accade qualcosa noi lo veniamo a scoprire dopo 20 minuti, quindi anche se c'è un problema noi lo scopriremo 20 minuti dopo, quindi con tempi di reazione che in effetti sulla Terra ormai non riusciamo più a sperimentare. E questo ha moltissime implicazioni, moltissime implicazioni, dicevo, dal punto di vista tecnologico, perché bisogna cominciare ad adottare delle tecnologie di autoriparazione, o addirittura di prevenzione, e poi soprattutto dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, perché bisogna prevedere a questo punto, molte operazioni devono essere svolte in maniera automatica, e per me, diciamo, per la mia qualità di astronauta, implica una rivoluzione dal punto di vista dell'addestramento delle persone, perché adesso ci si addestra, certo, per essere autonomi, ma sapendo che c'è sempre qualcuno a Terra che ti può aiutare in tempi molto brevi e tempestivamente. Lì, invece, 20 minuti sono un'eternità, e quindi ci dovrà rivoluzionare l'addestramento degli astronauti per dare agli astronauti molta più autonomia e capacità di decisione a bordo, ovviamente fornendo loro tutti gli strumenti necessari attraverso la tecnologia. In effetti, se pensiamo al famoso Houston, abbiamo un problema, sarebbe incredibile, diciamo, non avere neanche quella possibilità, perché comunque Houston lo scoprirebbe 20 minuti dopo, insomma, e poi ci vorrebbero altri 20 minuti per rinviare la risposta, insomma, quindi 40 minuti per semplicemente dialogare. Senti, è evidente, insomma, dal tuo racconto, che hai un rapporto anche importante con il pianeta Terra, e quindi torniamo anche agli obiettivi dell'ONU. Cosa possiamo alla fine sul serio apprendere da questa tua esperienza, anche personale, per chiaramente rimettere un po' al centro dell'umanità, dell'essere umano e, diciamo, anche nella complessità della società moderna, tecnologia, finanza, scienza, rimettere un po' il nostro rapporto, anche primordiale con il pianeta, in qualche maniera prenderci cura un po' come emerge da quell'immagine? Sì, diciamo, mi verrebbe da dire che quando uno vola nello spazio, ho volato a bordo dello shuttle, eravamo sette a bordo, e volavamo all'interno di un mezzo meccanico, senza quello non avremmo potuto sopravvivere nello spazio. Poi uno guarda giù, vede un'altra navetta, un po' più grande, dove le persone, diciamo, l'equipaggio è un po' più numeroso, ormai siamo arrivati praticamente al traguardo degli otto miliardi, ma anche quella è unica come unica era la mia navetta, e quindi uno sa che se ne deve prendere veramente cura. C'è qualcosa che colpisce chiunque abbia la fortuna di volare nello spazio, che è lo sguardo, e che si riporta indietro ovviamente, che è lo sguardo che uno ha sul pianeta. E la sostenibilità diventa qualcosa di molto importante, uno perché si capisce fondamentalmente che quel pianeta per noi è unico, e poi perché certi concetti, tipo siccità, inquinamento, deforestazione, che se uno ci pensa sono concetti razionali che dobbiamo metabolizzare col cervello per cercare di relazionarci. Perché la fortuna di volare nello spazio, questi concetti diventano delle immagini che sono molto più potenti di qualunque possibile descrizione, e quindi qualcosa che uno si porta dietro, che le immagini colpiscono, si vedono zone della Terra completamente desertiche, o che sono diventate desertiche a causa dell'uomo, del riscaldamento globale. Esattamente. Oppure si vede l'inquinamento, non c'è bisogno di grassi strumenti, perché lo si vede con i propri occhi, su certe zone della Terra, molto più numerose di quanto uno possa immaginarsi, e anche in paesi, non che noi definiamo in via di sviluppo, ma anche in paesi altamente industrializzati e moderni, e poi la deforestazione, quando uno passa sulla foresta amazzonica, è qualcosa che colpisce incredibilmente, perché si vede proprio lo schema col quale vengono tagliati gli alberi, con una strada centrale e ramificazioni laterali, e quindi uno ritorna sulla Terra, e non ho conosciuto nessuno che sia ritorno sulla Terra, con un sentimento inferiore di protezione del nostro pianeta di quando era partito. Senti, in qualche maniera abbiamo già anticipato che una delle possibili sfide dell'essere umano sarà quella di andare su Marte, peraltro ricordo che il mito dei marziani, il mito di Marte nasce proprio qui a Milano, con il grande astronomo Giovanni Schiaparelli, alla fine dell'Ottocento, che aveva disegnato questi famosi canali di Marte, e su quelle immagini inizia un dibattito proprio a livello mondiale, insomma c'è anche sul New York Times, i grandi astronomi dell'epoca iniziavano appunto a porsi questa domanda, ma se ci sono delle linee rette, evidentemente c'è una civiltà aliena su Marte, e da lì nasce il mito dei marziani, tu partiresti mai per andare su Marte? Io partirei anche subito, devo dire la verità, quando uno ha sperimentato cosa vuol dire volare nello spazio, e osservare quello che si può osservare anche solo dall'orbita terrestre, che non è così lontana, io dico che c'è il mal di spazio, che non è solo il mal di spazio, perché uno per i primi giorni si deve adattare, un mal di spazio inteso un po' come il mal d'Africa, rimane qualcosa che io rifarei sicuramente se mi si fornisce la possibilità di ritornarci, quindi ripartirei subito. Senti, peraltro stavo pensando che lo spazio è una metafora perfetta per gli obiettivi dell'ONU, perché li racchiude un po' tutti quanti, come ci hai descritto bene, ci hai spiegato, serve la tecnologia, ma serve chiaramente la finanza, perché richiede grandissimi investimenti, chiaramente andiamo lì per obiettivi legati alla sostenibilità, alla scienza, alla condivisione sempre di questa conoscenza, ma c'è anche un po' il concetto del lavorare insieme, mi raccontavi che all'interno della navetta Space Shuttle comunque ognuno si deve fidare degli altri, perché i compiti sono suddivisi tra gli astronauti. Assolutamente, per me l'esperienza dell'addestramento per una missione spaziale è stata fondamentale, ho imparato tantissime cose che poi ho riapplicato anche in altre avventure professionali, ma soprattutto il lavoro di squadra, perché i mezzi spaziali sono estremamente complessi, le operazioni spaziali sono estremamente complesse e quando uno si avvicina al volo spaziale, se pensa di poter andare nello spazio da solo, ha decisamente sbagliato mestiere e quindi uno capisce che ci sono, gli astronauti si sa che hanno un ego un po' ipertrofico, gli piace essere un po' delle prime donne, tutti, chi più chi meno, però quando uno si ritrova con altri colleghi e capisce che l'obiettivo è molto più grande di noi, allora si capisce anche che a volte bisogna fare un passo indietro per un obiettivo che è più importante della nostra persona ed è solo così che si riesce attraverso un lavoro di squadra molto intenso in cui i compiti sono suddivisi, dove quasi nessuno è sostituibile, quindi anche perché per come era configurato lo shuttle nessuno poteva fisicamente allungare un braccio e svolgere i compiti in certe fasi che erano affidati a te e la fiducia è proprio alla base del rapporto professionale e umano all'interno di un equipaggio di un veicolo spaziale. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo quindi è una metafora perfetta perché tutti gli obiettivi dell'ONU sono assolutamente troppo grandi per non solo per gli individui potremmo dire ma anche per la collettività e dobbiamo tentare di raggiungerli tutti insieme. Grazie a Maurizio Kelly. Grazie a te. E continuate a seguire questi appuntamenti dedicati agli obiettivi dell'ONU. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie a tutti.